Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video Sono 5x9 e oggi ragazzi siamo ad un altro vlog Ero solo per dirvi che Questo vlog è solo che oggi uscirà un nuovo video con un altro youtuber Che poi vi lascio il link in descrizione del suo canale Di un suo video vi lascio il link in descrizione E niente Poi si fa Clash Royale Forse lui se ne va qualcuno nel nostro run Lui viene Si farà un po' di amichevoli così E niente ma uscirà sul suo canale Non so se posso farlo venire anche sul mio canale Non lo so ma poi si vedrà Ma E poi grazie per il supporto del canale Ieri avevo fatto la speciale 50 iscritti Siamo già A 56 Grazie tante per il vostro supporto Quindi Volevo solo dirvi grazie 56 volte grazie E E questo è tutto Quindi ciao